Si aggrava il bilancio delle vittime e degli attentati di questo venerdì nel centro di Mogadiscio. Sono almeno 41 le vittime, mentre i feriti sono un centinaio. Lui è un miracolato. Insieme a un mio amico ero a bordo di un minibus e rientravo a casa, quando la macchina dietro di noi è esplosa. Ero ferito, ma sono corso via. A un certo punto sono svenuto e mi sono risvegliato in ospedale. L'attacco è stato rivendicato dai fondamentalisti di Al-Shabaab, milizie affiliate ad Al-Qaeda, che hanno dichiarato guerra al governo federale Somalo.